Si sono riunite ieri pomeriggio nei locali dell'Ente Parco dell'Accilento, Vallo di Diano e degli Alburni le due commissioni di riserva sulle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e di quella di Costa degli Infreschi e della Masseta. Alle riunioni delle suddette commissioni hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, dei comuni territorialmente competenti dell'Ente Parco e del Corpo delle Capitanerie di Porto, che risultano di fondamentale importanza per una corretta gestione e amministrazione di aree naturalistiche di particolare pregio come quelle delle aree marine protette. Le commissioni di riserva hanno discusso di alcune proposte di modifica dei due regolamenti, recanti la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone delle due aree marine protette. Il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitano di Vascello Maurizio Trogo, ha portato il suo saluto a tutti gli intervenuti in considerazione del lungo e proficuo rapporto lavorativo svolto a Roma presso il Ministero dell'Ambiente. La riunione della commissione di riserva dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate è stata preceduta altresì da una ricognizione visiva svolta a bordo della motovedetta dell'ufficio circondaleare marittimo di Agropoli, diretto dall'attenente di Vascello Rosario Florio. I membri della commissione hanno potuto così verificare dei risu quanto è stato fatto fino ad oggi per la tutela dell'ecosistema marino, sia con azioni preventive sia con azioni repressive, volte alla lotta degli illeciti commessi all'interno dell'area marina protetta. Le proposte di modifica sono state attentamente vagliate ed hanno portato all'elaborazione di nuovi regolamenti, che ora dovranno essere posti al vaglio del Ministero dell'Ambiente ed approvati mediante atto formale del Ministro, mediante decreto. Solamente per l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, a seguito degli approfondimenti richiesti dall'ente comunale, risulterà necessario effettuare un ulteriore incontro, presumibilmente presso il competente Ministero dell'Ambiente, per la completa e definitiva redazione del regolamento.